Per me è un'avventura nuovissima, fantastica e che sicuramente non sarà per niente facile, ma sono convinto che con l'aiuto di tutti posso andare avanti e fare le cose per bene. Io penso che quando giochi in una squadra piccola vuol dire che qualcosa di buono hai fatto. Io sono convinto che quelle che sono le mie qualità, quelle sono quelle che devo offrire. Ho sempre saputo che l'Inter era quella che voleva su Asso e adesso grazie a Dio siamo qua e poter dire è una nuova avventura che viene.